Una notte carica di momenti intensi e di profonda spiritualità per riflettere e fare memoria di uno degli eventi principali della storia di San Francesco. La Festa delle Stimmate rappresenta per il Santuario della Verna la celebrazione più importante di tutto l'anno, un giorno in cui numerosi pellegrini salgono al Monte del Casentino per pregare e meditare l'amore di Gesù Cristo per l'umanità, testimoniato dalla sua Pasqua di morte e resurrezione. Quell'amore e quel dolore che lo stesso San Francesco poteva provare proprio intorno alla Festa dell'Esaltazione della Croce, il 17 settembre, quando il suo corpo fu segnato dalle stesse piaghe del Crucifisso. E i frati minori della Toscana hanno voluto aggiungere ormai da alcuni anni, in questo giorno di festa e di preghiera, un momento speciale tutto dedicato ai giovani, una veglia notturna accompagnata da una processione a piedi partita dalla parrocchia dedicata a San Michele Arcangelo e San Francesco d'Assisi di Chiusi della Verna fino al Santuario. Per noi l'occasione delle Stimmate, la Festa delle Stimmate è l'occasione che ci viene data per fare festa come provincia toscana dei frati minori, ma soprattutto questa festa desideriamo allargarla con i giovani che da anni ormai partecipano alle nostre iniziative. Allora il giorno delle Stimmate, la notte delle Stimmate in modo particolare diventa per noi l'occasione per dare il via al nuovo anno di attività di pastorale giovanile come frati minori della Toscana. E' proprio la veglia delle Stimmate è la prima di queste iniziative che vede protagonisti, vede partecipanti diversi giovani provenienti da tutta la Toscana e non solo, che con noi si mettano in ascolto e in cammino in questa notte segnata dall'amore di Cristo. Per noi giovani è bello ritrovarci il pomeriggio prima di questa notte importante, un po' per rivederci dopo questa estate e condividere le nostre esperienze in un modo divertente, cantando e ballando insieme. Ma soprattutto per noi giovani è importante questa festa perché vogliamo festeggiare questo incontro grande fra Gesù e Francesco proprio all'inizio di questo nuovo anno di studio o di lavoro universitario, proprio per imparare anche noi a incontrare Gesù quotidianamente alla maiera di Francesco.